La loro è la storia di un sogno che si avvera, sono i ragazzi dei Black Lions Volley Napoli. La società di pallavolo di Soccavo ha conquistato infatti la finale nazionale Under 18 che si svolgerà a Trieste dal 7 al 10 giugno. L'evento è solo il traguardo finale di una stagione costellata dai successi del titolo regionale e interregionale. Alcuni atleti accompagnati dal loro allenatore sono stati ricevuti per un in bocca al lupo prima della partenza dall'assessore e allo sport Pina Tomasielli. Noi siamo vicini a tutti gli sport, riteniamo che in questa città nonostante le grandi difficoltà di impiantistica che abbiamo e sulle quali stiamo lavorando per ottimizzare e per offrire servizi migliori, riteniamo che comunque vada fortemente sponsorizzato tutto lo sport.